Nessuno spossa dal cantiere la centralina fissa che rileva la qualità dell'aria e allora ecco il report impietoso dell'ARPA per la città di Andria. Sono già 15 in meno di 7 mesi gli sforamenti al PM10 registrati dalla struttura di monitoraggio posta in via vaccina all'interno del cantiere d'interramento della ferrovia. Di fatto, ormai da oltre un anno, la centralina continua a raccogliere e a trasmettere dati che riguardano essenzialmente il cantiere stesso, visto che il traffico veicolare attorno è praticamente nullo. Oltre ai 15 sforamenti, si segnalano anche i 20 giorni sin cui registrati in cui per problemi tecnici non c'è stata comunicazione del dato sul sito dell'ARPA. Il record assoluto è stato toccato nella giornata del 6 aprile, quando la concentrazione è arrivata a 122 microgrammi per metro cubo giornalieri di PM10 rispetto al dato limite consentito per legge, cioè 50 più volte si sono sforati 100 con un'esposizione alle polveri sottili mai raggiunte prima in città. Quello che preoccupa maggiormente è il raffronto con lo storico della centralina. Nel 2020 e nel 2019 furono rispettivamente 4 e 7 gli sforamenti registrati, nel 2018 nuovamente 4 e nel 2016, l'anno più complesso per la qualità dell'aria ad Andrea negli ultimi anni, furono solo 9 gli sforamenti al PM10. Da segnalare anche che nel 2021 sono stati 4 gli sforamenti prima dell'avvio delle opere di cantiere prescavo, a partire da aprile dello stesso anno, con nuovi sforamenti importanti verso la fine del mese di giugno, sino ai 12 complessivi nell'intero anno. Sono peggiorati nell'ultimo anno e mezzo anche i dati relativi al PM2.5, altro inquinante particolarmente pericoloso per l'ambiente e per l'uomo. A questi, che sono dati relativi solo al cantiere d'interramento, bisogna aggiungere le maggiori concentrazioni di traffico in diverse e altre zone della città, a causa delle chiusure, degli attraversamenti e le modifiche alla viabilità, di cui però c'è minore contezza di dati. Fortunatamente i 35 sforamenti che per legge non bisogna superare sono ancora distanti, anche se il rischio di avvicinarsi a questa quota è davvero plausibile entro fine 2022. Il problema è che, come spiegato più volte dall'ARPA Puglia, l'obiettivo è scendere a quella che è l'indicazione dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e cioè massimo tre sforamenti all'anno. Che il cantiere sia temporaneo e palese, ma che nel corso di questi anni vi sia un maggiore inquinamento dell'aria attorno al cantiere stesso è un aspetto oggettivo con cui bisogna assolutamente confrontarsi. Di conseguenza la speranza è che la centralina fissa venga spostata magari altrove per tornare a monitorare costantemente il traffico veicolare, mentre attorno al cantiere vengono effettuati i rilievi magari con centraline mobili dell'ARPA, così da poter verificare quando e se sia necessario intervenire per abbassare le polveri sottili.